È stata una giornata fantastica, è stato bello vedere quanta gente è venuta alla presentazione, è stato bello conoscere la gente di Petronas, stanno facendo un ottimo lavoro insieme a Yamaha e ci stanno mettendo a disposizione un'ottima struttura e delle ottime moto, quindi sono contento di questo. È stata una giornata lunga, però è stato divertente. Allora sì, per questo campionato sicuramente ho degli obiettivi, però ancora non so cosa aspettarmi veramente, perché gli ultimi test dell'anno scorso sono andati bene, però bisogna rimanere calmi e provare a fare un ottimo lavoro durante i test e sicuramente secondo il mezzo che abbiamo e secondo il trattamento che abbiamo e il supporto che abbiamo possiamo fare molto bene e io spero di poter dare fastidio a qualche top guy e quindi spero di stare lì davanti qualche volta, più volte possibile, ma comunque bisogna avere in mente l'obiettivo principale per un team satellite che è quello di provare a vincere il premio di team satellite dell'anno. Allora sì! Allora sì! Grazie a tutti.